oggi domenica 18 agosto 2019 nelle selvagge foreste di conifere passo coe verso la valorsara raccolta di porcini ed eccone là uno favoloso bello grosso guardate qua come era nascosto adesso lo raccogliamo guardate che porcino ragazzi maestri guardate che grosso sarà un chilogrammo bello fresco sodo boletus eduris le conifere di passo coe bellissimo porcino